Se l'ho dato Gesù Cristo, è San Paolo che ci dice, e noi siamo fedeli al Vangelo, che se noi con la bocca proclamiamo che Gesù Cristo è il Signore e crediamo con il cuore, noi siamo salvi. Dunque c'è un atto di fede che viene dal profondo dell'anima ma che viene espresso al di fuori. Si tratta dunque di una fede sentita nel profondo e non superficiale, non di convenienza, non di interesse, non di opportunismo, non fatta di cose esterne, ma la quale chiede una espressione forte, pubblica. Proclamerai, bisogna dire che io non me lo dico davanti allo specchio o con me stesso che credo, ma lo dico pubblicamente. La mia vita diventa proclamazione della mia fede e se qualcuno mi chiede ragione io devo dire, sono chiamato a dire, testimoniare, io vivo così perché credo alla parola del Cristo, credo alla sua parola. Infatti, dice San Paolo, la fede nasce dall'ascolto e l'ascolto è la parola del Cristo Salvatore, perché ciò che è in gioco con l'ascolto della parola di Dio è la salvezza della mia anima. Sarai salvo. Se noi ascoltiamo ma non mettiamo in pratica, saremo come quelli che, secondo le parole proprio di Cristo, diranno Signore, Signore, ma lui ci dirà non vi conosco, perché la conoscenza è data dalla reciprocità dell'amore. Dio ci ha amati per primo, ci ha mandato il Figlio per salvarsi, noi siamo chiamati liberamente a rispondere. Sì, Signore, lo sai che ti amo, sono peccatore, ma sai che amo te e voglio seguire te. Mi dispiace, mi dolgo per quello che sono, ma io amo te sopra ogni cosa. Questa fede dunque nasce dall'ascolto della parola di Dio e dalla proclamazione di essa come testimonianza di ciò che abbiamo dentro e di ciò che Dio ha fatto per noi, le grandezze, le sue magnificenze, guarigioni interiori, la conversione, l'illuminazione, il vedere ciò che è vero e ciò che è falso. L'abbandonare è dunque una vita fatta di menzogna, di peccato, di pretesti, di opportunità, di egoismo, perché finalmente abbiamo conosciuto che è vero ciò che rimane e rimane so che è bene. Un ascolto invece fatto di altre voci può nascondere in realtà l'intenzione di essere attenti agli altri, ma in realtà di essere attenti a ciò che gli altri dicono che riguardi la nostra fede. Se io ascolto altri e non ascolto il Cristo, e il mio ascoltare gli altri non è relativo a Cristo, cioè non è ascoltare l'esigenza dell'altro per la carità, ma è un ascoltare l'altro perché devo apprendere qualcosa che è in più e che Cristo non mi ha dato, beh allora sono nell'errore. Perché tutto quello che Cristo dice è perfetto e sufficiente per potermi salvare l'anima, cioè per essere chiamato all'ingresso nella vita eterna. Se io invece ascolto qualcun altro, perché dobbiamo condividere delle ragioni che sono diverse e contrarie da quella che è la parola di Dio, allora questo va a modificare la mia fede e dunque io non credo alla parola che io ho ascoltato in precedenza, che io ho accolto in precedenza. Oppure ascolto come cristiano qualcosa che in realtà non è Cristo, non l'avendo mai ascoltato neanche prima, Cristo. L'ascolto dunque dell'altro è attenzione, è carità, ma perché noi siamo annunciatori di qualcosa che l'altro non ha e di cui ha bisogno. Non tutti accolgono la parola, dice San Paolo, ma a tutti noi dobbiamo proclamarla. Non basta agire secondo dei beni o delle misure comuni che sono al mondo per dire che amiamo gli altri. L'amore vero è quello che viene dalla carità dello Spirito Santo, è Dio stesso. Dunque io trasmetto Dio stesso, non perché io sono Dio, ma perché Dio si fa in me come veicolo per la salvezza degli altri. Lui usa me, sono come un sacramentale della sua forza, della sua potenza. Mi chiederà conto il Signore se io ho parlato di mille cose a qualche anima, ma non gli ho parlato di Lui. Mi chiederà conto il Signore se io avrò evitato di parlare di Lui, chiamando in altro nome quella carità che viene da Lui stesso. non si possono avere due padroni o si ammerà uno e si udirà l'altro. Siamo dunque mezzi di qualcosa di più grande della semplice parlare, perché la parola di Dio è viva, efficace, tagliente come una spada a due lame che penetra fra il midollo e le ossa, che vuol dire nell'intimità molto di più di quello che noi, con la nostra intenzione, ragione, capacità, comprensione, possiamo immaginare. Perché è la parola di Dio che Gesù ci affida, mandando i Suoi Apostoli, e quindi la Sua Chiesa, e quindi noi, è Lui stesso. Non si tratta dunque di proclamare parole vuote, materiali, o silogismi, o chissà quali forza di convincimento, perché è lo Spirito che converte, è lo Spirito che trasmette, e lo Spirito che va attraverso la mente di colui che ascolta dritto al cuore e gli chiede, il bussa e gli dice vuoi, vuoi accogliermi? La risposta sarà individuale. Ma a noi è chiesto di essere annunciatori di questa parola di Dio, che è più grande di noi, che è più efficace di ogni immaginazione, ma che inevitabilmente chiede di essere annunciata da noi, perché questo è il motivo per cui la Chiesa esiste. La Chiesa esiste per la salvezza delle anime. Ci sono molti linguaggi, i gesti di amore, i gesti di carità, ma questi vanno sempre accompagnati da ciò che li muove, che li muove veramente, che è il Cristo Signore, il suo amore per noi, che è riflesso e obbedienza dell'amore del Padre, che chiama ogni uomo alla salvezza. Dio vi benedica.